No, no, nel battito del cuore è una chitarra che suona per me, forse ha finito col capire che sono triste e lontano da te, e da allora suona, suona, suona perché, sole che ritorni da me, e se tu non ritornerai non finirà già mai. La mia chitarra mi domanda come mai tu non sei qui con me, lei ci vedeva sempre uniti, non sa spiegarsi si chiede un perché, e da allora suona, suona, suona per me, sole che non soffra per te, e se tu non ritornerai non finirà già mai. Grazie a tutti.